Dopo la lunga pausa di agosto il Piacenza Baseball torna in campo per la ripresa del campionato. Domani infatti è in programma la sfida con Codogno, un derby che per i Biancorossi, desiderosi come non mai di blindare il secondo posto valevoli playoff, conta tantissimo. Il precedente stagionale con i Cugini Lombardi parla di un pareggio in trasferta con il ricordo di uno dei migliori Piacenza visti all'opera. Stavolta però occorrerà dare molto di più dato che serviranno per forza due successi per poi viaggiare a Fossano e prendersi playoff. Un risultato diverso comprometterebbe probabilmente tutto visto che Milano, diretta concorrente nella corsa alla seconda piazza, sarà alle prese con un recupero ben più morbido sul diamante di un poviglio che non ha più nulla da chiedere alla classifica. Domani è una partita più importante, usciamo per vincere le due partite e così rimaniamo lì al secondo posto. Prima della sosta il Piacenza Baseball aveva messo segno di importanti vittorie e tanti punti preziosi, non è che forse questa pausa forzata rischia in qualche modo di limitarvi? I ragazzi sono concentrati, non perdiamo il clima positivo che abbiamo ottenuto durante luglio, che è stato più positivo di 12 partite, abbiamo vinto 10. Guardando invece al di là, poi dopo Codogno ci sarà un'altra partita importante, un altro recupero contro Fossano, anche lì sarà importante e fondamentale centrare la doppia vittoria. Sì, sì, questa penso io che è la più importante del campionato perché loro si giocano la salvezza e se noi vinciamo domani due partite noi giociamo per andare al playoff, quindi è lì più importante, c'è un po' di pressione e così è bello giocare al baseball con la pressione.